Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video durante il quale vi presenterò la top 3 dei migliori ferri da stiro verticali. Vi invito a dare un'occhiata alla descrizione dove troverete tutti i link ai prodotti e le migliori offerte del momento e adesso passiamo al video. Quindi cominciamo con il ferro da stiro verticale Ariete. Versatile e potente, questo ferro da stiro combina le funzioni di ferro verticale a vapore e ferro da stiro tradizionale. Grazie alla sua piastra in ceramica antiaderente, questo ferro garantisce una scorrevolezza impeccabile sui tessuti evitando danni alle fibre. Con una potenza di 1000 Watt e un serbatoio da 180 ml, l'Ariete offre un vapore potente e continuo ideale per eliminare i pieghe più ostinate da qualsiasi tipo di tessuto. Il design in bianco e blu lo rende esteticamente gradevole e adatto a qualsiasi ambiente. Inoltre, grazie alla sua funzione da viaggio, questo ferro è comodo da portare in valigia durante i tuoi spostamenti. Poi troviamo il ferro da stiro Philips Perfect Care, un prodotto di alta gamma progettato per semplificare la tua esperienza di stiratura. Con una potenza di 2700 Watt e una pressione di 8,5 bar, questo ferro da stiro offre prestazioni potenti e assolutamente facili. Grazie alla tecnologia Optimal Temp non è necessario regolare la temperatura manualmente poiché il ferro si adatta automaticamente a qualsiasi tessuto evitando danni e bruciature. Il colpo di vapore di 700 grammi permette di eliminare facilmente anche i pieghe più ostinate garantendo risultati impeccabili su qualsiasi tipo di tessuto. Con un serbatoio d'acqua di 1,8 litri avrai una lunga autonomia di stiratura senza dover continuamente riempire il serbatoio. Il design qui è anche molto elegante e aggiunge un tocco di raffinatezza al tuo set da stiro. E per finire ecco il ferro da stiro verticale Roventa Access Steam potente e versatile progettato per semplificare il tuo quotidiano. Con una potenza di 1600 Watt e una capacità di serbatoio di 200 millilitri questo ferro offre una potente erogazione del vapore per un'efficace rimozione delle pieghe dai tuoi tessuti. Il vapore sanificante contribuisce ad eliminare fino al 99,9 per cento dei batteri presenti sui tessuti garantendo una pulizia igienica dei tuoi indumenti. Il supporto verticale incluso ti consente di utilizzare il ferro come un pratico steamer per le tue giacche, abiti e tende senza doverli togliere dall'appendiabiti. Con tre accessori inclusi puoi adattare il ferro alle diverse esigenze di stiratura e grazie alla classe di efficienza energetica A più il Roventa è un'ottima scelta per un ferro da stiro efficiente ed ecologico. Ecco grazie per aver seguito questo video spero che ti sia stato utile non esitare a mettere un like un commento ed iscriverti al canale è sempre un piacere. Ti ricordo anche che ho messo i link dei prodotti e le migliori offerte nella descrizione puoi vedere tutto ciò e su questa nota ti dico a presto per un nuovo video.